Oggi 27 gennaio ricorre la festa di San Giuliano patrono della città di Castrovillari. La chiesa nasce nel XII secolo per celebrare il culto del beato vescovo di Le Mans, importato nel 1064 dall'invasione normanna. Alcuni interventi che ne modificarono radicalmente l'aspetto vennero completati verso la prima metà del XVII secolo. Furono inoltre aggiunti un nuovo altare e il soffitto lineo. Oggi la chiesa è diventata basilica minore. La festa di San Giuliano, vescovo patrono della città di Castrovillari, è da secoli l'appuntamento più atteso dell'intera comunità castrovillarese dei paesi limitrofi. È un evento ricco di significato, non soltanto per l'affetto e la devozione verso il santo vescovo Giuliano, ma anche perché coincide con la giornata della memoria, l'olocausto, che porta naturalmente al grande desiderio di pace, a riflettere sui rischi oggettivi a cui l'umanità oggi è sottoposta e ai numerosi olocausti ancora presenti sul pianeta Terra. Una ricorrenza questa che richiama alla mente anche i grandi sistemi della storia passata e presente, non sempre diretti al bene dell'umanità e alla crescita umana e spirituale dei popoli, nel rispetto dei diritti inalienabili della dignità di ogni uomo, al di là della sua appartenenza ideologica, politica e religiosa. È con questo spirito che la comunità di Castrovillari si appresta a vivere questo sentito appuntamento con l'offerta delle chiavi della città da parte del sindaco al vescovo come segno di affidamento a chi vuole aprire il cuore di ogni uomo alla speranza di un mondo nuovo.